Sono Andrea Bedendo, ho 39 anni e sono di Lendinara. Sono sposato con Nara e ho due figlie, Giulia e Cecilia. Sono un imprenditore, quindi ho la mia azienda Lendinara. Ho deciso di candidarmi con Fare per fermare Declino con Oscar Geno Premier e sono iscritto alla lista di Veneto 1 La Camera e il dodgesimo in lista. Sono convinto che il Polesine vada valorizzato e per valorizzare il Polesine secondo me occorre passare per lo sviluppo del territorio, quindi valorizzando l'aspetto idrogeologico del nostro Polesine, incentivando tutto quello che possa essere legato alla nostra specificità. Inoltre secondo me molti servizi andrebbero migliorati e perfezionati con la riduzione del numero dei comuni da 50 a 15. Occorre puntare sulla crescita e sullo sviluppo del nostro PIL, quindi incentivare le imprese togliendo l'IRAP e abbattendo il cuno fiscale che impedisce ai lavoratori di avere il forte potere di spesa. Riuderei il debito pubblico mettendo mano al patrimonio dello Stato, quindi togliendo lo Stato da quegli apparati parasatali inutili e che sono un peso. Mi darei una giudizia uguale per tutti, veloce, rapida e sicura e userei come cardine la meritocrazia. La promessa che voglio fare è a me stesso, voglio restare a me stesso per senso di responsabilità verso le mie figlie, i miei figli e soprattutto perché voglio sempre ricordarmi che cosa ha mosso il mio impegno in questa politica, per cambiarla.